Un assalto armato in piena regola, terrore ieri sera a Selvazzano, un commando di quattro persone ha fatto irruzione nella sala scommesse JAS di Via Forno. I banditi sono entrati in azione armati di fucili e pistole e hanno terrorizzato clienti e il titolare, poi si sono fatti consegnare il contante presente nel fondo cassa e si sono dati alla fuga. I banditi hanno imposto ai clienti di non muoversi, poi hanno minacciato il titolare, un uomo cinese di 40 anni che ha provato a reagire. Durante la collutazione sono partiti anche diversi colpi d'arma da fuoco, alcuni hanno centrato il muro, altri il soffitto. Fortunatamente, oltre allo spavento, nessuno è rimasto e ferito. Il gruppo di tre banditi era atteso all'esterno da un complice, poi sono fuggiti a bordo di una Ford Focus. Poco dopo, sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi. Difficile stabilire l'origine dei malviventi, secondo le prime testimonianze. Uno dovrebbe essere italiano e uno dell'est Europa, mentre un terzo è rimasto in silenzio per buona parte dell'azione. In via di quantificazione anche il bottino che si dovrebbe aggirare intorno ai 2000 euro in contanti.